La nostra azienda, il nostro brand è presente internazionale a Ferrara da ormai quattro anni come sponsor della manifestazione e all'interno di questi tre giorni portiamo una serie di appuntamenti che sono legati alla nostra attività. Abbiamo uno stand con tutte le produzioni di Montura Editing, i nostri libri, abbiamo montato in piazza Trento Trieste una ghermongola che ci serve per presentare i nostri progetti di solidarietà, siamo presenti con una struttura erampicata perché il mondo Montura è un mondo di sportivi e poi ci serve anche per passare il messaggio dello sport inclusivo, lo sport per tutti e per questo la palestra abbiamo realizzata con Emozionabile e con Sport Fund. Abbiamo visto una grande curiosità, voglia di fare, tanti ragazzi giovani che hanno voluto provare, anche bambini e anche persone di una certa età. Per me è sempre un'occasione poter condividere con altre persone quella che è la mia esperienza in parete, diciamo al semibuio. Ore tre, destra, apri, apri, giù, apri, ok. Destra, dodici. Lì, ok, laterale, bilanciamento. Più vicino, lì. Ci hanno fatto visita anche due vecchi amici, Mauro Corona e Fausto De Stefani. La cosa ci ha fatto molto piacere perché sono estremamente allineati con la nostra filosofia. Mi raccomando, seguiteci sui nostri social e andate a visitare il portale www.emozionabile.it 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 www.emozionabile.it